Posso partecipare alla prossima selezione del TFA sostegno senza i 24 CFU? Evidentemente c'è molta confusione sull'argomento poiché ci pervengono tantissime richieste di chiarimento in merito. In questo video cercherò di fare il punto sulla questione dei 24 CFU per partecipare alle prossime selezioni del TFA sostegno in funzione dei casi diversi e della normativa vigente. Non mancheranno alcune considerazioni e i miei suggerimenti che spesso mi chiedete in base alla mia esperienza da docente in diversi cicli di TFA sostegno e per diverse università e quale docente dell'unico corso di preparazione strategica al TFA sostegno in 5 step secondo l'omonimo metodo da me ideato. Per saperne di più puoi dare un'occhiata al nostro nuovo sito www.diversitutti.com Colgo l'occasione per darvi un'informazione importante. Sono sempre più numerose le vostre richieste e di questo vi ringraziamo proprio per la fiducia dimostrata. Sta di fatto che finora mi sono adoperata cercando anche di farmi dare una mano per rispondere a tutte le richieste anche a quelle un po' più complesse per cui era difficile rispondere attraverso la risposta ad un commento e video o una risposta via mail. Però è importante fare una precisazione ovvero che non forniamo servizio di consulenza o di supporto individuale alla preparazione alle prove concorsuali. Questo proprio perché come diversi tutti non siamo strutturati per poter erogare questo tipo di servizio. Come ricevere allora una risposta ai tanti dubbi che proliferano fra i docenti? Per singoli e specifici dubbi che quindi non richiedano una vera e propria consulenza potete far riferimento al video che tratti l'argomento in oggetto e lasciare quindi la vostra richiesta nei commenti. Naturalmente dopo aver letto con attenzione i commenti precedenti e le risposte già fornite poiché spesso la risposta è già nel commento di qualcun altro. Questo per consentirci di essere più snelli e più efficaci nelle risposte e anche per creare un bel confronto all'interno della community di diversi tutti. E dovete sapere quindi che quando le domande saranno particolarmente ricorrenti o interessanti e per ricorrenti sarà sufficiente cliccare sul mi piace ad una domanda posta da qualcun altro ma che vi sta a cuore, beh in questo caso ci adopereremo come per la questione dei 24 CFU creando un video oppure un post sul blog di diversi tutti così da essere utile a tutta la community. Ringrazio quindi fin da ora chi seguendo queste piccole indicazioni vorrà renderci il lavoro più agevole e più funzionale. Facciamo quindi il punto sui 24 CFU. Per verificare se 24 CFU siano requisito di accesso al TFA di sostegno bisognerà considerare a. L'ordine, il grado e la classe di concorso per cui hai titolo di concorrere b. L'attuale fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 c. La riforma di reclutamento dei docenti d. L'attuale ritardo nell'attivazione dei percorsi abilitanti i cosiddetti 60 CFU Precisazioni sul TFA sostegno e requisiti Prima di tutto occorre precisare alcune questioni che spesso vengono ancora troppo sottovalutate. Primo, il TFA di sostegno è l'attuale corso di specializzazione nell'insegnamento delle attività di sostegno e l'insegnante di sostegno viene assegnato alla classe in cui sia presente un alunno con disabilità. Secondo, al TFA di sostegno non ci si scrive liberamente. Per poter frequentare e conseguire il titolo di specializzazione sarà necessario superare una procedura di selezione che consiste in tre prove di cui una preselettiva. Terzo, per partecipare alle selezioni del TFA è necessario possedere determinati requisiti. Primo fra tutti e anche il meno considerato l'aver conseguito un titolo di studio valido. Ma valido a che cosa? A. All'insegnamento supposto comune nello stesso ordine e grado per cui si intenda concorrere. B. In una classe di concorso che non sia ad esaurimento quindi una classe di concorso vigente. Su questi argomenti nel canale sono presenti diversi video specifici. Non è facilissimo trovarli poiché i video di diversi tutti ormai sono tantissimi però se tua intenzione è diventare insegnante di sostegno devi sapere che queste tre questioni ti devono essere molto chiare. Ti consiglio quindi di guardare con attenzione le playlist sulla pagina del canale YouTube o di dare un'occhiata ogni tanto sul sito di diversi tutti per vedere quando sarà nuovamente disponibile il cofanetto di guide 6 guide diventare insegnante di sostegno in cui troverai queste ed altre questioni importanti trattate in maniera sistematica e completa. Chi potrà partecipare sempre al TFA di sostegno senza 24 CFU ad accedere senza 24 CFU non solo al prossimo ciclo di TFA sostegno ma anche ad eventuali successivi cicli o comunque corsi di specializzazione nelle attività di sostegno sono tutti quegli insegnanti che abbiano conseguito un titolo di studio valido per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e o nella scuola primaria e pertanto questi partecipano alle selezioni senza aver conseguito i 24 CFU. Chi parteciperà al TFA sostegno nella fase transitoria senza i 24 CFU? In questa fase transitoria ovvero fino al 31 dicembre 2024 partecipano al TFA senza i 24 CFU tutti quegli insegnanti che abbiano acquisito un titolo di studio valido per l'insegnamento nella scuola secondaria purché A. La classe di concorso sia una classe di concorso su un insegnamento tecnico pratico B. Che tale classe di concorso non sia in esaurimento Quindi prestate la massima attenzione poiché secondo la normativa vigente salvo deroghe Il prossimo ciclo del TFA sostegno, esattamente il nono ciclo che ci si aspetta per la primavera 2024 sarà l'ultima possibilità di partecipare alle selezioni senza i 24 CFU e con il solo diploma solo ed esclusivamente per gli insegnamenti tecnico pratici della secondaria. Chi parteciperà al prossimo TFA sostegno con i 24 CFU? Beh, tutti gli insegnanti che abbiano conseguito un titolo di studio per insegnare in una classe di concorso che non sia un ITP e quindi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado per partecipare al prossimo TFA sostegno dovranno aver conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 E gli altri senza i 24 CFU? Che fine faranno? Molti aspiranti docenti di sostegno non hanno potuto conseguire 24 CFU entro la data limite il 31 ottobre 2022 per diversi motivi tra cui anche persone neolaureate e che si sono laureate dopo tale data né hanno potuto conseguire i CFU necessari attraverso i nuovi percorsi abilitanti in quanto questi, come saprete, si sarebbero dovuti avviare proprio nell'autunno del 2022 e invece siamo a febbraio 2024 e ancora non è stato emanato il decreto attuativo per cui al momento non abbiamo ancora una data certa del loro avvio Cosa succederà quindi a tutti quegli aspiranti, docenti di sostegno che vorrebbero partecipare alle selezioni del TFA del prossimo ciclo che non abbiano conseguito i 24 CFU? Ecco la situazione ufficiale al momento L'ultimo pronunciamento ufficiale del Ministero a tal riguardo risale a giugno 2023 Si tratta di una nota di chiarimento su diverse questioni aperte che tra l'altro avevamo sollevato proprio in attesa del decreto di avvio del precedente ciclo, l'ottavo, quello del 2023 Il decreto però non era stato esplicito su tutta una serie di questioni delicate per cui si rese necessaria una nota di chiarimento e tale nota precisa che per tutti quei candidati della scuola secondaria che avevano un titolo per una classe di concorso non ITP il conseguimento dei 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 era requisito imprescindibile per partecipare alle selezioni dell'ottavo ciclo del TFA sostegno Cosa succederà per questo nuovo ciclo? Il Ministero escluderà per il secondo ciclo consecutivo tutti quegli aspiranti che vorrebbero diventare insegnanti di sostegno ma non sono riusciti a conseguire 24 CFU entro la data limite né hanno potuto avere la possibilità di conseguire i CFU necessari attraverso i nuovi percorsi abilitanti Per saperlo con certezza dovremo aspettare indicazioni da parte del Ministero magari attraverso il decreto di avvio se vuoi conoscere un po' la tempistica perlomeno le mie previsioni puoi dare un'occhiata ad un video che ho dedicato a proposito Intanto mi avete chiesto cosa ne penso di questa situazione anomala Chiaramente la questione dei candidati aspiranti al TFA di sostegno senza 24 CFU riguarda una minoranza e questo a mio parere è il motivo per cui non se ne sente parlare molto e sicuramente non abbastanza A mio parere però la questione meriterebbe l'attenzione da parte di tutti e adesso vediamo perché Primo la carenza di insegnanti specializzati nelle attività di sostegno è un fatto non recente ma ormai da diverso tempo e si proclama costantemente questa carenza senza fare nulla però per rendere e facilitare la specializzazione da parte degli aspiranti candidati Secondo una società che sia inclusiva e non si dichiari semplicemente dovrebbe sempre avere a cuore anche le questioni delle minoranze Terzo si sta creando un precedente Oggi magari la questione non ti riguarda ma domani potrebbe toccarti da vicino E la conosci la storia sì? Com'è possibile escludere dal diritto alla formazione alla specializzazione per un periodo così lungo a partire da novembre 2022 e non si sa fino a quando escludendoli almeno da due cicli del TFA di sostegno Bisognerebbe sollevare la situazione al Ministero ma anche ai sindacati, agli organi di informazione alle associazioni di categoria in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica e trovare riscontro e solidarietà da parte di tutti gli insegnanti e gli educatori invece di guardare e limitarsi a guardare il proprio orticello La conosci la storia sì? E proprio per questo nel limite delle nostre possibilità abbiamo voluto dedicare a questa piccola questione questo video e contiamo con il tuo aiuto di poterlo diffondere il più possibile quindi ti invitiamo a condividerlo così da poter accendere un piccolo faro nell'opinione pubblica Nel contempo abbiamo già segnalato al Ministero tale circostanza chiedendo l'UMI e auspicando che si possa considerare la possibilità di una deroga e quindi di una regolarizzazione successiva dell'acquisizione dei CFU necessari così come peraltro è prevista per i vincitori di concorso in questa fase transitoria anche perché la sorte dei prossimi candidati al TFA di sostegno al momento non è affatto chiara e l'anomalia potrebbe ripetersi anche dato il ritardo accumulato nell'avvio dei percorsi abilitanti nuovi percorsi da 60 CFU e le criticità emergenti e che per gli addetti ai lavori è facile prevedere al momento non abbiamo ricevuto riscontro ma non mancheremo di aggiornarvi a proposito e siamo fiduciosi che le stanze degli aspiranti, docenti di sostegno e dei docenti di sostegno già di ruolo possano trovare sempre più risonanza anche grazie al sostegno e al supporto della nostra piccola community bene intanto fammi sapere cosa ne pensi nei commenti sono proprio curiosa di leggerli e lascia un bel emoji fiore come segno di solidarietà agli aspiranti docenti di sostegno visita il sito di diversi tutti per rimanere aggiornato sulle nostre iniziative e mi raccomando se vuoi seguire i nostri corsi in particolare se sei interessato al prossimo ciclo di TFA non perdere la possibilità di iscriverti al mio corso di preparazione strategica al TFA sostegno in cinque step qui accanto i video suggeriti da diversi tutti a chi spetta l'insegnante di sostegno le questioni aperte di cui ti parlavo il titolo di studio necessario per insegnare nella secondaria e quindi anche per partecipare al TFA di sostegno e infine la riforma docenti grazie per l'attenzione un caro saluto a tutti e alla prossima